L'inaugurazione del centro Anch'io l'abbiamo voluto fortemente, è sicuramente un'opera importante anche per il recupero urbanistico che c'è stato. Qui c'era una struttura faticente, abbiamo demolito quella struttura e oggi abbiamo un centro di eccellenza anche da un punto di vista energetico. Qui le famiglie e i ragazzi troveranno il luogo ideale per crescere, è un progetto creato per i bambini dai 10 ai 14 anni, lo faranno a fianco del parco del Tione e quindi la zona più adeguata per creare questa sinergia e questo luogo assolutamente importante. Un progetto che parte da lontano e che oggi vede finalmente la realtà, è un progetto che è stato finanziato con i fondi del PNRR per oltre un milione di euro, una struttura di 400 metri quadrati tutta su un piano con un giardino e una valvola di sfogo attivo al parco del Tione. Ne potranno usufruire famiglie, giovani e tutti coloro che vorranno avvicinarsi a questa bellissima struttura. Questo sarà un luogo di grande aggregazione, con una valenza veramente dal punto di vista sociale. Credo una struttura invidiata da tanti, perché posso dire con grande tranquillità che una struttura così, poche ce ne sono in giro. Una struttura efficientata energeticamente, al massimo della funzionalità e della usufruibilità degli spazi. Un piano, come dicevo, di 400 metri quadrati interamente utilizzabile per poter raggiungere gli scopi prefissati dall'attività. La grande soddisfazione nostra è che dopo la chiusura temporanea del centro Anch'io di Via Marconi, c'è stato il grande impegno da parte dell'amministrazione per dare in tempi rapidi e celeri una risposta a questa struttura e a questa attività tanto attesa da tutta la comunità. Quindi oggi esprimiamo grandissima soddisfazione, un progetto fortemente voluto da tutta l'amministrazione comunale e da tutto il reparto dei servizi sociali. Una giornata attesa da un po' di tempo, nasce il nuovo centro Anch'io, con questa nuova sede, è il luogo di pensiero per i ragazzi e per le famiglie. Io lo definisco luogo di pensiero perché qui il nostro servizio socioeducativo e la meglio gioventù del terzo settore, che abbiamo riunito intorno a un tavolo che si chiama Tavolo Progetto Azione 014, dialoga, si confronta per promuovere modelli e progetti educativi per i nostri ragazzi nella fase di età 014 e per i genitori. È anche un modo per i genitori, un luogo per i genitori, dove confrontarsi, parlarsi, scambiarsi reciproche esperienze e anche problemi che possono nascere nel flusso educativo. Credo che questo centro Anch'io sarà un luogo che si armonizzerà perfettamente anche con il nascente Parco del Tione, quindi anche delle buone prospettive per fare delle attività all'aperto, sempre di tipo educativo e abbiamo l'ambizione che sia aperto anche nelle fasce serali anche per le associazioni di volontariato, per chiunque voglia portare il proprio contributo.